Scendo in campo perché vogliamo una Calabria bella, giusta ed accogliente, insieme possiamo. Questo è lo slogan di Fabio Guerriero che ha presentato a Catanzaro la sua candidatura per le regionali in Calabria nella lista del Partito Democratico, Collegio, Calabria Centro. Fabio Guerriero, in campo perché? Perché la Calabria ha bisogno di gente concreta, di gente del fare, di persone che conoscono il territorio ammenadito, conoscono i problemi e hanno un chiaro percorso per come risolverli. Una Calabria bella, giusta e accogliente è la Calabria che vuole? È la Calabria la desiderata, ma non penso sia la mia desiderata, penso che sia la desiderata di tante persone che mi stanno a fianco. Insieme possiamo perché da solo nessuno va da nessuna parte. Noi abbiamo visto in questi anni tanti uomini soli al governo. Ecco, sono rimasti uomini solo al governo e questa è la politica più sbagliata che ci può essere per la nostra terra. Nessuno si salva da solo, ancor meno noi meridionali. Priorità per questa terra? La priorità, la priorità è il lavoro, non ci stanno priorità, anzi tre priorità, lavoro, lavoro, lavoro. Noi siamo una terra martoriata, affondata da scelte nordiche. Il lavoro deve poter esserci, deve poter trovare asilo anche in Calabria per dare dignità alle tante persone laboriose che io conosco. Eppure una terra così difficile come la nostra si trova costretta a scegliere in meno di un mese il proprio governatore, così come i consiglieri regionali. Come faranno i calabresi a scegliere bene? E' mancato il dibattito, è mancato il confronto sui programmi. I calabresi come sempre saranno chiamati a scegliere il meglio che offre la politica per quanto meglio si possa definire. Noi siamo impegnati su un percorso significativo di rinnovamento e di rilancio di una proposta di lavoro credibile per la Calabria. Il nostro candidato a presidente Pippo Callipa è un imprenditore di successo, uno che si è fatto con le sue mani. Ritengo che la strada da seguire sia quella indicata dal presidente. Non a caso ha scelto la parola accogliente, come mai? Accogliente? Si parla tanto di migranti come se fosse il problema più grave da dover risolvere. Noi abbiamo problemi ben più gravi. L'occupazione, la sanità, la scuola, l'accoglienza, la solidarietà. Questi sono i problemi che stanno a cuore a una forza politica e partitica come quella che io rappresento.